Circa il 50% della manodopera impiegata nel settore agroalimentare è di origine straniera, anche se i dati ufficiali parlano di immigrati occupati che arrivano a quasi 362.000 alla fine del 2022 e coprono il 31,7% delle giornate di lavoro registrate. È quanto emerge dal rapporto sui lavoratori immigrati nell'agroalimentare italiano commissionato dalla FAICISL e presentato al CNEL. Le principali provenienze nazionali registrate nei dati istituzionali sono tuttora nell'ordine Romania, Marocco, India, Albania e Senegal. Le nazionalità dei rifugiati non compaiono nelle prime posizioni e in generale l'Africa subsahariana è sottorappresentata. Mentre i lavoratori rumeni negli anni diminuiscono, marocchini, indiani e albanesi crescono di qualche migliaia e i senegalesi addirittura raddoppiano. L'agricoltura però è anche il settore più a rischio sfruttamento della manodopera immigrata. Quasi la metà dei provvedimenti giudiziari e delle inchieste condotte tra il 2017 e il 2021 hanno riguardato il lavoro nei campi. Le regioni del Mezzogiorno sono le più colpite, ma lo sfruttamento è cresciuto anche al centro-nord.